Mentre esci da quel buco, vola con quell'aquila che ti sei sdoppiata. Senti adesso le vibrazioni di quella luce. Non ce n'è luce forte, luce forte non ce n'è, non ce n'è, e cosa vedi? Bene, ti vedo un pochettino bianco. E quel bianco devi avvicinarti, avvicinati, e mentre ti avvicini quel bianco diventa lucente. Guardalo, quasi quasi brilla, ma tu non apri gli occhi, ma ti abbaglia il viso. Guardalo, guardalo, e mentre lo guardi con gli occhi chiusi, ti senti abbagliare le pupille dei tuoi occhi e vengono guarite se dovresti avere catarrate. E quando ritornerai indietro, i tuoi occhi staranno meglio. Ricordati, se ci sono delle fessure nei tuoi occhi, che si sono rovinati con il tempo, che i microbi hanno lacerato,